Anna Lisabella, informatore di Giovanese Vigevano, ci troviamo al Museo Internazionale della Calzatura e tra pochissimi minuti inaugurerà la mostra di calzature Scarpe Rosse quando il design diventa simbolo. L'Associazione Lo Specchio dei Sogni ha voluto aiutare Core nell'allestimento di questa mostra Scarpe Rosse quando il design diventa simbolo. Abbiamo chiesto alle aziende calzaturiere italiane di realizzare le loro calzature iconiche, rosse, come simbolo della lotta alla violenza sulle donne. I calzaturiere che hanno partecipato sono 20, 8 calzaturiere marchigiani, 7 vigevanesi e 7 di Parabiago. La mostra sarà visibile fino al 29 di gennaio. Sono Marika Genchi, direttrice artistica dell'Associazione Lo Specchio dei Sogni. Oggi all'interno dell'evento avremmo dovuto fare una performance del nostro spettacolo Libera di Essere. Purtroppo non sarà possibile, quindi io farò una presentazione dove spiegherò da cosa nasce il progetto. Il progetto è nato per aiutare Core, in particolare, le donne vittime di violenza, non soltanto nella sensibilizzazione ma proprio in maniera concreta.